Siamo qui in prossimità di uno dei varchi che siamo riusciti insieme a Mare Libero come Radicali Roma a far aprire nel luglio scorso, dando seguito a un impegno che avevamo preso, è una piccola conquista, perché chiaramente c'è ancora moltissimo da fare sul lungomare di Roma, a Ostia l'illegalità è dilagante, però è una piccola conquista che può dare il senso anche ai cittadini che facendo battaglie di legalità si arriva a dei miglioramenti che poi diventano una garanzia di una fruibilità maggiore per tutti, adesso è possibile dal centro di Ostia, dal pontile per tutti, per le famiglie, per i bambini, anche quando le concessioni sono chiuse, quindi anche fuori dalla stagione baleare, accedere al bagnasciuga. La stessa cosa adesso faremo pressione perché venga fatto sull'altro lato, quindi lato stabilimento Elmi, con una spesa tutto sommato bassa si può consentire a tutti di accedere, mettere in sicurezza i varchi e consentirlo anche alle persone disabili. Continua l'iniziativa e la battaglia su Ostia e speriamo a breve di raggiungere altri risultati. Grazie. 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 Grazie.